Applausi a scena aperta per la braccia affettuosa e il bacio lieve tra il principe Antonello e la principessa Costanza. La novità introdotta dal direttore artistico Enzo Darco all'interno della rievocazione dell'assalto al castello racchiude in sé il senso della favola e del sogno tra gli ingredienti principali del fascino e alla tavola della principessa Costanza. La festa medievale regina dell'estate ha concluso la sua 26esima edizione richiamando a Teggiano nei tre giorni di svolgimento un pubblico superiore alle 100.000 presenze. E' solo uno dei tanti record infranti dalla Kermessa organizzata dalla Proloco Teggiano con il supporto del comune di Teggiano e della regione Campania ed in partnership con la Banca del Cilento di Sassane e Vallodidiano e della Lucania. Per la prima volta il telegiornale della RAI ha detto che principessa Costanza è una delle più belle manifestazioni nazionali. Ulteriore conferma di un salto di qualità importante. Beh certamente è una grande soddisfazione. Io ne sono stato sempre convinto però ovviamente il mio giudizio è sempre parziale quindi detto da autorevoli giornalisti la cosa fa piacere e quindi è un motivo di orgoglio per noi che organizziamo. Questa manifestazione è per noi parte di noi stessi, della nostra vita e quindi avere un giudizio come questo da giornalisti autorevoli è una cosa che non può che far piacere. Quest'anno abbiamo portato delle novità rilevanti e sono state tutte apprezzate quindi questo è per noi motivo di orgoglio e di grande soddisfazione. Anche noi della banca che abbiamo partecipato in questi tre giorni abbiamo vissuto in un'epoca medievale, abbiamo vissuto delle emozioni uniche e siamo felicissimi di questo. Quindi il bilancio non può che essere positivo sia nella organizzazione che nella partecipazione di pubblico quindi mi auguro che il prossimo anno saremo ancora presenti per dare il nostro contributo. Hanno partecipato anche alcuni nostri dipendenti che si sono resi subito disponibili a partecipare a questa manifestazione e quindi hanno messo tutto il loro impegno fisico e anche partecipativo per questa Kermesse. Abbiamo provato a metterci anche un briciolo di favola provando attraverso l'incontro quando il principe e la principessa si ritirano a castello provando a fargli abbracciare e a fargli dare un piccolo bacino. Tutti abbiamo sognato da piccoli di baciare una principessa se fossimo stati uomini oppure donne di essere baciati da un principe e perché non far sognare ancora oggi il pubblico in un particolare momento storico tra l'altro dove l'imbarbarimento, l'irrigidimento dei sentimenti è all'ennesima potenza. Credo che abbiamo bisogno di incontrare l'altro, abbiamo bisogno di sognare, abbiamo bisogno di amare. Quindi anche in una storia che prevede scontri tra in questo caso Aragonesi e Angioini credo che possa prendere ruolo, deve prendere ruolo il sogno, l'amore e la fantasia.